Ciao a tutti, io sono il Dilan Dogofilo. Oggi recensione della storia La Tomba di Ghiaccio che possiamo trovare all'interno del Dilan Dog Colorfest numero 9. I testi sono di Belli, la sceneggiatura di Mantero, disegni di Freghiere. La colorazione è invece ad opera di Sergio Anelli. Quindi ben quattro artisti che si sono divisi il lavoro per creare questa storia di 30 pagine. In cosa consiste la trama? Ma questi artisti ci propongono tanti panorami differenti tra di loro, inerenti al mondo del Dilan Dog presente, passato e futuro, che vanno ad intersecarsi fra di loro. Ma tutto ciò sarà sufficiente per ottenere un buon voto finale? Direi di no, perché il paranormale che va ad intersecarsi con la vita e la morte, che a sua volta va a intersecarsi con normali delitti, che a sua volta va a proporre al lettore una visione eventualmente, diciamo, catastrofica e anche, diciamo, post-apocalittica, tutto questo calderone di cose non riuscirà bene a dialogare. Infatti abbiamo tante lacune in questa avventura, tante domande a cui non vengono date delle risposte. Avremo modo di incontrare anche un personaggio chiave dell'album mensile numero 66, il custode del limbo. Abbiamo alcune vignette abbastanza ben realizzate attraverso una sceneggiatura chiara, nel dettaglio alcune situazioni, diciamo, adrenaliniche, però per il resto una avventura che non riesce a spiegarsi al 100%. I disegni sono di Giovanni Freghiere, devo dire che col colore sono, non brutti, perché comunque rimangono belli, ma col colore non abbiamo un valore aggiunto, anzi, forse ancora meglio Giovanni Freghiere col bianco e nero, perché qui mancano totalmente le ombreggiature sui volti e mancano le ombreggiature in generale. Tutto piatto e abbiamo una colorazione che non va a perfezionare il tratto dell'artista. Abbiamo una colorazione che va a, diciamo, rendere i volti un pochino troppo piatti, senza alcun tipo di espressione. Questo è un po' un difetto di questa colorazione, anche un pochino opacizzato, un pochino troppo bianca. Capisco che si parla del ghiaccio, le persone che vanno sulla montagna non saranno abbronzate come quelle del mare, ma non è detto, perché di solito chi va in montagna si abbronza, ma qui avremo due ragazzi che vanno sempre in montagna sui ghiacciai e rimangono davvero pallidissimi. Insomma, una storia buona a metà anche dal punto di vista dei disegni. Questa vignetta, però, ve la devo far vedere, è un vero spettacolo. Non so come abbia fatto Freghiere a riprodurre questo riflesso nel ghiaccio così convincente, ma ci è riuscito e piace veramente tanto. Voto finale che vado ad assegnare tra il 6 e il 7. Per un momento è tutto, se questa recensione in qualche modo ti è stata utile o se ti è piaciuta condividila da Rewa e iscriviti al canale YouTube del Dylan Dogofilo per venire sempre aggiornato sul personaggio di Dylan Dog. E noi ci vediamo in un prossimo video dedicato al mondo del narratore dell'incubo. Vedete come sono stato bravo? Non vi ho spoilerato nulla. Grazie a tutti.